Buongiorno amici miei, buongiorno a tutti i belli e brutti, buongiorno a tutti i lavoratori, non lavoratori, a tutti quanti, buongiorno a tutti. Allora, 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 e adesso? E adesso? Dicono che dagli sbagli si impara, no? Ma questi qua non impareranno mai, non impareranno mai. Guardate, a me l'altro giorno già, quando hanno detto che è scattato il rinnovo di Aleksandr, mi sono caduti i coglioni. Ma pensate, allora, l'Inter è in finale del Champions, la Roma è in finale di Coppa UEFA e la Fiorentina in finale di Conference è di Coppa Italia. La Fiorentina, la Fiorentina. Porca miseria, porca miseria. Guardate, io spero che sia vero, perché sappiamo che dopo ogni sconfitta, dopo ogni cosa, c'è il totto allenatore della Juventus. Io continuo a dire che questo demente, questo pazzo non rimane alla Juventus, non rimane. Perché se questo rimane alla Juventus vuol dire proprio che loro vogliono il male della Juventus, si impegnano per ciò che la Juventus vada a pezzi definitivamente, se questo rimane. Comunque chi arriverà alla Juventus, ragazzi, e troverà macerie, eh? Troverà macerie. Troverà macerie. Lasciate da questo schifoso che ha distrutto quel minimo che ha lasciato Pirlo. Perché almeno Pirlo se ne è andato via con due coppette. Qualcosa, qualcosa c'era. Perché qualcosa c'era? Perché con Pirlo almeno facevi delle partite schifosissime, demenziali. Però, porca miseria, ogni tanto facevi anche delle partite. Mi ricordo con il Barcellona, con il Milan, mi ricordo. Cioè, ci sono state partite con lui. Era una Juventus da dieci o da tre. Era una Juventus un po' strana quella di Pirlo. Ma con questo, ragazzi? Con questo? E poi ci sono ancora quelli che dicono, ma siamo sempre al secondo posto. Ma quanti punti c'è della prima? Quanti punti c'è della prima? Questo è il discorso che facevano anni fa. Quando noi eravamo primi, avevamo un distacco, perché eravamo talmente forti, e avevamo un distacco ampio dalla seconda. Perché dietro non c'era nessuno. C'era troppo gap. Tu sei secondo, ma quelle che sono con te, seconde, sono poca roba. Sono poca roba, giusto? L'Atalanta è quello che è. Il Milan è finito. L'unica sono i prescritti lì. Hanno avuto anche loro quei due mesi di merda. L'hanno pagato. Il Milan è stato costante. È giusto che abbia vinto lo scudetto. Perché è giusto. No, ma noi siamo secondi lì. Va bene che siamo lì, che siamo tutti lì, circa. Ma a quanti punti c'è dalla prima? Un'eternità. 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 E ragazzi, lì è l'allenatore che non va. L'allenatore, lo dirò finché morirò. Qui è l'allenatore che fa vomitare. Almeno quegli altri hanno puntato le coppe. Ci sono arrivati. Questo qui punta tutto quanto. E poi non arriva a fare un cazzo questo qua. Punta qua, punta là. Punta una almeno. E prenditela, quella competizione. Proprio questo qui. E non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva. Non ci arriva, non ci arriva. E adesso, guardate, io. Questa notizia è arrivata. Di Spalletti. Guardate veramente se... Spalletti era già all'orbita Juventus del dopo Cardiff. Dopo quel maledetto glielo ha rinnovato questo schifoso per altri due anni, no? Se arrivava... Se fosse arrivato Spalletti le cose erano già diverse. Sarebbero state molto, molto, molto diverse. Perché quello lì se viene fa pulizia, eh? Quello fa pulizia su serio. Non si tiene le merde, prendimi quello, dammi quello, prodotto quello, via. Quello proprio fa pulizia totale. Cioè, ragazzi, c'è da smantelare qui. Ma c'è da smantelare il quadrato. Gli Alessandro, gli Orugani. C'è una lista, ragazzi. Ci vuole uno che sappia lavorare con anche i giovani. È inutile. Perché noi qualche giovane buono ce l'abbiamo già. Metti quei 6-7 buoni di una certa età e faresti anche una buona squadra con un allenatore che sa allenare. Con un allenatore che sa allenare. Questo non sa allenare. Questo, vi ripeto, che più di metà squadra non lo può vedere. Non lo può vedere. Ma tu, dirigenza, ma non vedi queste robe qua? Ma non vedi quello schifo in campo? Ma non vedi i disastri che fa questo matto? Perché questo, ragazzi, è matto. Ma lo vedete anche dalle conferenze stampa? Prende per il culo la gente, ride in conferenza stampa. Ma che cazzo è da ridere? Ma che cazzo è da ridere? Che siamo in condizioni disastrose per colpa tua? E il tuo amico, lì schifoso, lì che è nato in Olanda? Siamo in condizioni di... Ma che cazzo ridi? Per me quelli che ridono sempre sono coglioni. Sono incoglioniti. Sono fuori di testa. Uno che ride sempre... Per me è un coglione. Coglione. Eh. Speriamo che arrivi quello lì. Spero, spero, spero. Perché si parla, sì, sempre di Conte, però Conte è sempre questa storia qui che si prende un anno sabattico o torna lei un anno sabattico. però c'erano voci anche di Conte al Napoli. E gli dicono, ma come Conte al Napoli si hanno già sabattico? E allora adesso viene un fuori di questa vocina che sto giunto lì, che parebbe che sia fatto la Juventus, si porta a sabattico lì. Quell'altro, siccome non è deficiente quello a Napoli, è già corso ai ripari, no? Perché Conte è un buonissimo allenatore. Dopo lasciamo perdere la Champions League perché lì, ripeto, ha avuto anche tanta sfiga. Perché lì ha avuto anche tanta sfiga. Però, ragazzi, almeno quelli sono allenatori. Questo qui, questo qui. No, neanche più parole come definire questo. Non ho neanche più parole. Ho finito il vocabolario degli insulti per questo. Il vocabolario degli insulti. Siamo un... Che vergogna, che vergogna, ragazzi, che vergogna. Che vergogna, ragazzi, che vergogna. Eh, ma tanto arriva Allegri. Almeno lo scudetto lo vincevano. Mia mamma, ve l'ho già detto più di una volta. Mia mamma, quando è tornato Allegri. Mia mamma di calcio non capisce un cazzo. Quando è tornato Allegri ha detto Mamma mia, di nuovo quello. Mia mamma. Mia mamma. Che è rimasta ai tempi di Paolo Rossi, Platini, Vialli. È rimasta a quei tempi lì. Poi non ha più seguito. Sì, seguiva, ma così, no? Era innamorata di quelli, perché quelli erano uomini. Questi non sono più uomini. Questi sono marionette. L'ha capito lei? Che di calcio non capisce un cazzo. L'ha capito lei. Infatti se gli chiedi della Juventus lei ti dice quei nomi là. Di questi qua non ne conosce neanche uno. Se gli dici dimmi qualche nome della Juventus non ne sai neanche uno. Perché questa qui è una Juventus che dal dopo conte non entra nel cuore. Perché è una Juventus che non entra. Vedete che una volta provavi amore per questa squadra qua. Adesso ormai è tutto un brand. Tutto a tutto far soldi con magliette. non c'è più... Insomma avete capito quello che voglio dire, no? Più abbiamo questo schifoso in panchina che questo qui ti porta a odiare. A odiare questa squadra qua. Perché questa squadra qua è una squadra che sta sul cazzo. Che sta sul cazzo. Ragazzoni, un bacione a tutti i beni brutti. Iscrivetevi al canale, come dico sempre. Un salutone al mio amico Marco che mi ha scritto. Ti ho beccato Marco. Ti ho beccato, ti ho beccato. Un salutone a Marco. Sto arrivando piano piano con le visual. Ho beccato anche Monfalcone. Un salutone a Marco. Salutami tutti quelli che hanno lavorato con me e con te. Agli ondulati. Fagli vedere il mio video e fagli iscrivervi al mio canale. Mi raccomando, eh Marco? Ok? Un salutone a tutti. Un salutone a tutti gli iscritti perché contribuite alla crescita del canale. E come dico sempre, un iscritto al giorno toglie il medico ritorno. Ok ragazzi? Bacione da Michelone e ciao a tutti.